Una sconfitta annunciata a Piombino, la Vinavilla e Cipiere e Domodossola cade 98 a 76, ottavo K.O. per la squadra di Cocce e Valli, ma tantissime sono le attenuanti per questo K.O. in Toscana, le senzegne fatti già risapute di Dimeco, di Serroni fuori rosa per decisioni della società e di D'Andrea, si è aggiunta sabato anche quella di Tempestini che ha accusato un problema al ginocchio. Si spera di recuperarlo per la sfida importantissima in chiave salvezza di Domenica, la pala da Cagni contro Pavia. Domo dunque ha giocato comunque con onore trovando grandi numeri da parte di Andrea Tomei che ha scritto a referto 29 punti con 2 su 5, da 2 7 su 15 dall'arco il finale 98 a 76, testemonia comunque la supremazia dei giallo-blu di Marco Andreazza che con questa vittoria raggiungono il quarto posto in classifica. Piombino ha messo subito il turbo ipotecando il successo già nel corso del primo quarto, chiuso sul più 14 sul 31 a 17 grazie al dominio nel pitturato di Persico e alle iniziative dei vari Bianchi, Procacci e Pedroni, tutti in doppia cifra. Domo ha provato a recuperare un pochettino il gap nel corso del secondo quarto arrivando anche al meno 10 ma poi non appena Piombino ha nuovamente pigiato il piede sul acceleratore sono arrivati i titoli di coda del match secondo tempo in cui c'è stato spazio anche per i giovani da una parte e dall'altra da segnalare i tre minuti sul parquet di Paolo Bellia, il debutto in maglia ossolana dell'albanese ultimo arrivato Claudio Patani finisce 98 a 76 domenica contro Pavia, bisogna assolutamente vincere.